Giova! Giova! Ciao Dario! Stai! Stai! Mi hanno fatto tagliare addosso, si chiama fine... Dario! Sì! Ado! Complimenti! Ma ero io prima! Pronto è tutto buono! Ciao Arbis! Complimenti! Cazzo mi riprendi oh! No non mi sto riprendendo! Prendi... Ehi! Mi fattori! Giavo! 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 Cristian! E' questo qui Cristiannino? E' Cristiannino! Buono Cristian! A meheeeeeee! Aeeeeeeeee! Apri apri apri! minchia ragazzi ho un infarto e un corso mio papà piangeva non sentite apri un po' apri stappa 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 no inquadra il mistero inquadra il mistero che ci dà degli schiaffi ci dà degli schiaffi ma il baronio è quello che lo fa la ragamina bravo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti